5 buoni motivi per utilizzare una sega giapponese. Facciamo una breve introduzione alle caratteristiche tecniche di questa sega. Lunghezza lama 24 cm, lunghezza totale 58 cm, spessore della lama 0,45 mm e 0,65 mm nella divergenza dei denti della lama. È dotata di due tipi di lame. Da un lato ha la dentatura larga per i tagli lungovena, dall'altra parte ha i denti molto più stretti, quindi per i tagli controvena. Questo perché? Perché lungo la vena riesce a espellere meglio il trucelo e fare un taglio più aggressivo, quindi più veloce. Mentre con i denti un po' più stretti riusciamo a fare tagli un po' più precisi, puliti andando contro la venatura del legno. Ma la caratteristica principale per cui si distingue dalle nostre seghe europee è il tipo di taglio, che non è a spinta, ma bensì in trazione. Questo appunto permette che la lama, andando a stirarsi, andando a tirarsi, non ha bisogno di rinforzi. Ma vediamo praticamente ora cosa riusciamo a fare con questa sega giapponese. Comincio utilizzando la sega per un taglio controvena. Segnato il pezzo, accompagno la lama lungo la linea, appoggiandola al dito. Quindi la orienterò con i denti stretti verso il legno. Faccio un solco su tutta la linea del taglio. Fatto questo, comincio il taglio prima in maniera più calma, poi man mano che la lama affonda, posso accelerare. Guardando la qualità del taglio, nonostante sia una tavoletta di abete, posso dire che il taglio è molto molto pulito. Passiamo ora al taglio lungovena. Orienteremo la lama al senso opposto, quindi i denti larghi saranno rivolti verso il legno. Per una mia comodità, comincio comunque il taglio con i denti stretti, per creare il solco di guida alla lama. Fatto questo, posso girare la sega ed essere un po' più aggressivo. La differenza che noto fra un taglio e l'altro è soprattutto la velocità di taglio. Infatti, con un dente più largo, riesco a espellere meglio il truccelo, quindi essere più veloce durante il taglio. Anche in questo caso, si nota la pulizia del taglio. Ora, per la prima volta, provo a fare un incastro con la sega giapponese. Anche in questo caso, evidencio il pezzo da far saltare e comincio a fare le prime incisioni. Asi a fare le prime incisioni. facciamo la prova dell'incastro sicuramente c'è molto da migliorare ma posso dire che l'incastro anche senza colla tiene vediamo dunque questi cinque buoni motivi primo motivo per cui utilizzare una sega giapponese rioba è appunto lo spessore della lama lavorando in trazione non a spinta ci permette di avere una lama molto molto sottile secondo motivo collegato al primo è il fatto che lavorando in trazione la lama si tende a stendere e non a piegare quindi non c'è bisogno del rinforzo cosa ci permette di fare questo oltre al taglio sottile possiamo scendere a qualsiasi profondità di taglio senza avere il problema del rinforzo della lama infatti le seghe europee lavorando a spinta e non a trazione hanno necessità di avere o una lama più spessa o un rinforzo come in questo caso questo però limita il taglio terzo motivo è il peso molto ridotto di circa 170 grammi quindi ci permette di poter lavorare molta scioltezza quarto motivo il manico è molto lungo a differenza sempre delle seghe europee questo ci potete ci permette di poter lavorare impugnare la lama con due mani e lavorare in trazione facendo molta più forza quinto motivo è la flessione della lama questo ci permette di poter lavorare anche a tagliare pezzi in verticale rispetto al pieno d'appoggio dato lo sforzo veramente ridotto con la quale si riesce a lavorare questo secondo me è uno strumento abbastanza utile nei nostri laboratori questa nuova concezione di taglio in trazione mi ha sorpreso positivamente è altrettanto vero che errori con i primi tagli se ne fanno se ne fanno parecchi ma l'importante è imparare tanto dagli propri errori e soprattutto non mollare mai grazie e alla prossima